Alessandra Celentano Aninip nel ballo, e, questa sera, a sfidarsi, ci sono stati la sedicenne torinese Aurora Nobile, e la star Nick Company. È stata proprio Aurora, dunque, per il suo bel fisico formoso, ad attirare l'attenzione della blogger selvaggia Lucarelli, che ha voluto commentare, in un modo da lei stesso definito scorretto. Gli appassionati di tv e di talent, che seguono anche l'edizione di quest'anno di Amici di Maria De Chilippi, non potranno quindi fare a meno di associare le parole della Lucarelli alla vicenda, che ha visto protagoniste sabato scorso la maestra Alessandra Celentano, e la ballerina statunitense Lauren. La Celentano aveva accusato la ballerina di essere troppo grassa per il suo ruolo, cosa che non è piaciuta a gran parte del pubblico a casa. Selvaggia Lucarelli a ballando con le stelle, parla di Alessandra Celentano. La coreografa Alessandra Celentano, dopo aver accusato la ballerina Lauren di essere in sovrappeso, nell'arco di questa settimana ha continuato a difendere la sua posizione, affermando di non inudere i suoi allievi, e di non praticare del finto perbenismo. Tuttavia, il suo modo di fare non sembra essere piaciuto alla blogger selvaggia Lucarelli, e al pubblico a casa, che la scorsa settimana, in termini di ascolti, aveva premiato proprio il programma condotto da Millie Carlucci, in sfavore degli allievi della scuola di Amici. La Lucarelli, comunque, in quanto a frecciatine e citazioni non si è risparmiata questa sera. Infatti, dopo l'esibizione di Francisco Porcella, che domenica scorsa si è lussato la clavicola in un incidente in Snowboard, rischiando di non potersi esibire questo sabato e mettendo in difficoltà la sua maestra, la ballerina Anastasia Kuzmina, ha dichiarato, scherzosamente, hai un bidone dell'immondizia al posto del C.U.O.R.E., un chiaro riferimento alle parole rivolte dal portiere della Juventus, Gigi Buffon, dopo la sua espulsione, all'arbitro della partita contro il Real Madrid svoltasi mercoledì scorso. La puntata di questa sera di Ballando, però, non è finita qui, mancano ancora numerose esibizioni, e la prova dell'attore Gabriele Garco nelle vesti di ballerino per una notte.